Il senso dell'antipolitica vince perché ne sono state fatte tante brutte a Roma e quindi è chiaro che noi dobbiamo farci carico, siccome un pezzo di responsabilità ce l'abbiamo anche noi, dobbiamo farci carico di una rabbia che esiste, che è reale e che è anche giustificata. Bisogna dargli uno sbocco in positivo, quindi bisogna offrire una possibilità credibile di alternativa all'antipolitica. La Raggi io non so se vincerà o meno, lo decideranno gli elettori, non darei per scontato che sia così, io penso di vincere io, però vedremo.